ciao a tutti riguardo alla valigetta del fai da te che faremo al prossimo incontro a mozzanica la fattoria del fai da te allora prima di tutto cominciate a procurare la valigetta primo le cose da portare sono taglierino questo tutto ciò che serve a tagliare la valigetta che avete recuperato poi procurate anche un pezzo di legno di questa grandezza rettangolare e magari uno dall'altra parte della grandezza della valigetta e poi con delle viti praticamente dalla parte opposta verrà fissata queste due tavolette di legno o magari anche delle tavolette che non siano la stessa grandezza ma almeno la metà della valigetta ok perché poi servirà per fissare tutte le cose che noi metteremo dentro ok un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo seminario ciao a tutti